un saluto a tutti carissimi bentornati per questo nuovo video ci buttiamo subito sull'azione sul mio banco da lavoro bando alle introduzioni con la mia bruttissima faccia vi mostro subito quello che è l'argomento del giorno come vedete siamo in casa scelli e abbiamo qui sul mio banco da lavoro tantissimi dispositivi di cosa parliamo oggi bene qualche giorno fa qualche settimana fa abbiamo recensito lo shelly blue door window e lo shelly blue button questi dispositivi qui che hanno questa dicitura shelly blue come avrete capito se avete visto i miei video sono dispositivi shelly che comunicano tramite una radio bluetooth quindi non sono i classici shelly wifi ma funzionano con bluetooth precisamente bl bluetooth low energy che succede che voi con il vostro smartphone naturalmente a portata di bluetooth potete dialogare con questi dispositivi ma questo succede quando uscite di casa e insomma volete sapere se c'è stata un'apertura una chiusura di una porta quindi se questo sensore per esempio è cambiato di stato oppure se premete il pulsantino dello shelly button per azionare una scena o qualcosa del genere succede che non potete naturalmente non siete a portata di bluetooth non potete dialogare con questi dispositivi e quindi vi avevo detto durante i video che per far sì che lo stato di questi sensori andasse in qualche modo online sul cloud shelly avevate bisogno di un dispositivo della famiglia plus o della famiglia pro un qualsiasi shelly plus o pro insomma che hanno vedete come vedete il simbolino sia del wifi che del bluetooth c'è scritto anche wifi in bluetooth quindi avendo la doppia radio questi dispositivi che fanno uso dell'SP32 come processore che supporta sia wifi che bluetooth avendo anche la radio bluetooth possono da un lato dialogare con questi dispositivi all'interno di casa che inviano il segnale via bluetooth a uno di questi shelly plus o pro che naturalmente devono essere in casa a portata di segnale bluetooth di questi sensori ma se ne avete sparsi un po per casa diciamo che il problema non si pone e dall'altro lato possono rigirare reinoltrare in stradare il segnale quella informazione trante il wifi alla rete e quindi renderla disponibile sul cloud e quindi di conseguenza sul nostro smartphone quindi video vi dovevate vi dovrete vi dovete in qualche modo dotare di alcuni shelly della famiglia plus o pro ma cosa succede se in casa avete già tutti i vecchi modelli tipo questo vecchio shelly 2.5 che ciò qui ha ancora perso nella scrivania in attesa del trapianto di condensatore famosissimo trapianto di condensatore potrete acquistare e qui andiamo ad introdurre un nuovo dispositivo che è presentato al terco robotix lo shelly blu gateway quindi un dispositivo dedicato a questa operazione non più diciamo utilizzare uno di quelli che avete per fare altro per farlo funzionare da gateway ma un dispositivo dedicato un gateway puro ecco qui questo dispositivo fa solo da gateway shelly blu gateway andiamo ad aprire la confezione quindi fa proprio questa operazione prende il segnale bluetooth degli shelly della serie blu e lo inoltre sul wifi inoltre sulla rete andiamo a spacchettare vediamo il contenuto della confezione poi facciamo un test abbiamo il classico manualetto utente e all'interno abbiamo ecco qua il nostro shelly gateway con la nostra usb di tipo a che quindi andrà alimentato tramite un qualsiasi alimentatore da smartphone tipo questo ecco qui che poi andremo a accendere andremo ad attaccare all'alimentazione elettrica ecco qui adesso è andato meglio e quindi niente lo vado a collegare facciamo subito un test vediamo se va abbinato all'app shelly sinceramente ripeto lo sto aprendo insieme a voi per la prima volta vediamo insieme come funziona un test vediamo insieme come funziona insieme Grazie a tutti. E quindi proviamo con il nuovo sensore, questa volta proviamo questo nero e proviamo ad abbinarlo al nuovo gateway. Ecco qui, ecco qui, ecco qui, andiamo a fare più, aggiungi dispositivo via bluetooth, andiamo a pigiare il pulsantino che lo fa risvegliare, eccolo qui. Press button, ok, lo chiamiamo door black in questo caso, prossimo, ecco qui, andiamo invece ad abbinarlo questa volta al blue gateway anziché all'altro che mi sta rilevando che è luce aspirapolvere che è lo Shelly Plus a cui avevo abbinato in precedenza l'altro sensore. Andiamo a dare sempre la stanza studio. Ecco qui, chiuso, aperto, chiuso. Perfetto. Quindi si è abbinato correttamente al nostro gateway e quindi in questo caso farà riferimento a lui. Il gateway è veramente qui vicino, eccolo qua, collegato alla mia presa USB direttamente su una placchetta qui 503. Naturalmente se non avete le USB sparse per casa in quel modo potrete utilizzare, come già detto, un semplice alimentatore da smartphone con delle USB disponibili. Bene, non dobbiamo aggiungere altro perché questo dispositivo veramente non fa nulla di altro se non andare a creare proprio un dialogo tra il bluetooth di questi sensori, la stessa cosa naturalmente vale per lo Shelly Blue Button e la nostra rete Wi-Fi per darci disponibile il dispositivo sul nostro smartphone anche all'esterno e per farlo anche dialogare con la parte cloud per le scene naturalmente perché per esempio potremmo decidere che quando il sensore si apre, rileva porta aperta, magari accende una luce di cortesia all'interno di casa, all'ingresso e cose di questo genere in automazione insomma che abbiamo già visto e che si addicono a questi tipi di dispositivi. Bene ragazzi, è veramente tutto per questo video, vi ricordo di farci visita sul nostro blog all'indirizzo www.vincenzogabuto.com vi ricordo che abbiamo anche un canale Telegram, un canale Instagram, Facebook, Google News e qualche altra cosa che adesso non ricordo, vi saluto, è veramente tutto da Matera, vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da Vincenzo, ciao!